Marta Inverrò, siamo fino! Ok, vai, 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 prego. Vogliamo l'esultanza, vogliamo la gioia, vogliamo capire quanto siete contenti. Non ci sia una parola, no, gioia incredibile, ancora più gioia così all'ultimo secondo, all'ultimo respiro che è meritato però vincere così, soprattutto di nuovo con lo stadio pieno oggi sapendo di portare di nuovo la città Bergamo a Roma, siamo felicissimi e questo dobbiamo godere di nuovo e un piccolo festeggernetto stasera. Avevate paura di dover giocare anche i supplementari? No, sai che ero contrario perché io ho detto appena prima del gol, ho detto a Isaac e a James City non becchiamo il gol, però dopo abbiamo ancora 30 minuti con una superiorità numerica che troviamo il gol sicuro perché stavamo creando, loro non riuscivano a fare due passaggi. Arriverà, arriverà. Meno male che è arrivato subito perché non abbiamo dovuto giocare 30 minuti in più, però era abbastanza tranquillo. La sensazione è che quest'Atalanta è davvero forte? Sì, arrivare in fondo al finale, in Europa League, nel semifinale, obiettivi che in Europa non abbiamo mai raggiunto, di nuovo giocare in finale, questo dà fiducia, dà energia, pur giocando ogni tre giorni, ma questo dà energia. Questo è il mese dove giochi i risultati e i trofei. Adesso abbiamo tanta voglia, tanta voglia di giocare ogni partita e con la fiducia sulle nostre spalle dobbiamo credere. Martin, giocate ogni tre giorni, la fatica non la sentite? No, certo, nella gamba alla fine partita un po' la fatica la senti, però vincendo così dà energia e tanta voglia. Sono anche tutte belle partite, sono tutte belle partite che vuoi giocare, così arriviamo molto carichi e con tanta voglia. Grazie. Grazie. Grazie.